Questo è il manto erboso dello Stadio Rocco di Trieste. In questo momento appare quasi immacolato dopo le cure del caso, dopo la prima di campionato. In realtà la prima partita di Serie C della Triestina di quest'anno persa col Trento ha evidenziato condizioni veramente a limiti. Abbiamo visto tutti il gol dell'attaccante del Trento, le conseguenze, poi addirittura l'infortunio con il piede sotto la zolla, così come abbiamo visto l'azione di Pavlev che è andato con il piede anche lui sotto il manto erboso. È evidente che la rizzollatura fatta tre settimane fa dopo i problemi causati dal concerto dei Maneschi non ha tenuto alla prima di campionato, tra l'altro in doppia diretta televisiva. 250 mila euro di intervento a carico degli organizzatori del concerto, ma in tre settimane il manto non è riuscito ad attecchire. Abbiamo sentito le parole del sindaco di piazza questa mattina. Quello che gestisce San Siro gestisce anche Rocco, per cui è gente che sa quello che fa. Adesso sicuramente ci sarà stato qualche problema, adesso naturalmente provvederanno e si risolvono i problemi. Ho letto le solite polemiche, sai a Trieste se fai i fuochi d'artificio non va bene, se non li fai non va bene, se li fai non va bene e così sono tutte le cose su qualsiasi cosa. Ritorna purtroppo nell'esperienza negativa della Triestina e del Rocco il fatto che è una squadra che gioca in casa ma non si può allenare sul campo, in questo caso addirittura per consentire di ritornare accettabile dal punto di vista delle condizioni. Abbiamo sentito anche l'assessore Rossi, abbiamo visto la situazione di lavoro quotidiano post partita anche questa mattina sul campo nel tentativo di far attecchire meglio in manto erboso. Detto questo non è possibile a breve un nuovo intervento di ripristino, quindi si lascerà il campo il più possibile a riposo e a irrigazione corretta per sperare fra qualche settimana di avere una situazione migliore rispetto a quella vista alla prima giornata a Rocco in cui le zolle saltate dopo pochi minuti di gioco hanno parlato da sole sulle condizioni dello Stadio di Trieste.